Eccoci in diretta. Buonasera a tutti e tutte. Sono contentissima di essere in compagnia di Roberto Gretter, che è un origamista pazzesco. Ho visto un sacco di suoi lavori. Sì, sì, non fare così, sei bravissimo. Quindi ringrazio tutti quelli che ci stanno ascoltando, nonostante la semifinale Marocco-Francia, correggimi se sbaglio. Corretto. Francia ha il vantaggio per 1-0. Però il Marocco ha appena preso un palo. Ecco, quindi magari qualche ascoltatore ogni tanto ci informa nei commenti come siamo messi con la partita. Comunque, niente Roberto, grazie mille di aver accettato. Io sono contentissima che tu sia qui in diretta con me e soprattutto sono anche qui. Grazie a te per l'invito. Ecco, no, no, grazie a te. Sono molto curioso di sapere che cosa ci mostrerai stasera. Tra l'altro so che hai anche preparato delle slide molto interessanti. Quindi, ecco, se vuoi un attimo presentarti, raccontare un po' chi sei ai nostri ascoltatori. Mi chiamo Roberto Gretter. Sono un origamista da circa 25 anni. Come studi sono un ingegnere elettronico e lavoro nel campo dell'intelligenza artificiale, in particolar modo di riconoscimento automatico della voce. Come origamista ho iniziato a piegare senza sapere cosa ci fosse dietro all'origami, tutta la matematica e la geometria che ci sono dietro, ma semplicemente eseguivo la serie di istruzioni che sono i diagrammi che portano a realizzare un modello e ero soddisfatto così. Poi, quando ho scoperto cosa c'era dietro, si è aperto un mondo, in pratica. Cercherò di descrivervi tra breve. Perfetto. Se posso chiederti una cosa personale. Come ti sei avvicinato al mondo degli origami? È stato un caso, è stato un caso. Ho trovato un libro in libreria, l'ho preso. Ho avuto la fortuna di trovare un libro valido, perché gran parte dei libri che si trovano anche adesso in libreria sono francamente penosi. Cioè, l'origami sono due pieghe e devi piegarli usando una carta che ha suddisegnati gli occhietti per fare l'animale. Non è così che si fa origami, cioè quello non è origami, quello fa solo male all'origami. Certo. Mentre invece tu, se vuoi piegare un modello che... cioè, gli occhi li devi fare, se li vuoi. Li devi piegare. Tra l'altro, magari, alla fine ricordami che ti chiederò qualche titolo per chi si vuole avvicinare all'arte degli origami. Io adesso direi che cominciamo con il vivo della nostra diretta, quindi non so, hai qualche modello da presentarci, da farci vedere? Ma io partirei con quello che è uno dei modelli più base, che è la base quadrata o base triangolare. È questo. Si parte da un quadrato, si piega prima la mediana, poi l'altra mediana, poi si gira il foglio e si piegano le due diagonali. L'unica cosa che uno deve davvero sapere quando fa origami è la differenza fra piega a valle e piega a monte. E in questo modello sono alternate. Cioè, se uno immagina di essere una formica e fare un giro intorno al centro, incontra una piega a valle, una piega a monte, una a valle, una a monte, eccetera, e via così. Questo modello, che sembra banale, è in realtà la base per un sacco di modelli. E quello che colpisce è in qualche maniera il passaggio fra la base triangolare, che è questa, e si chiama così perché forma un triangolo, alla base quadrata, che si ottiene schiacciando al centro, finché la carta scatta. C'è una forza in gioco, perché questa configurazione dà due posizioni di equilibrio, ok? Una è la base triangolare e l'altra è la base quadrata, ok? Nulla di strano, se non fosse che uno potrebbe non avere una sola base triangolare, uno potrebbe avere una fila di basi triangolari come questa, ok? Che diventa una sorta di fisarmonica, che uno può aprire e chiudere, ok? Questa non è altra che una base triangolare, accostata a un'altra base triangolare, eccetera. Ora, cosa succede se io ne avessi due di queste, ok? Così non le posso accostare, perché rimane un buco nel mezzo. Però se io una la abbasso di mezzo quadrato, vedete? Possono combaciare. E questo dà luogo a tutta una serie di strutture che hanno delle proprietà interessantissime. In pratica, quella struttura può essere ottenuta, cioè può essere replicata qui. Vedete, ognuna di queste è una piccola base triangolare e è agganciata alle altre secondo la struttura che vi ho appena mostrato con i fogli gialli. Ora, cosa succede se io tiro le due estremità, ok? Così. Questa struttura si chiude come se fosse un cilindro alla fine, vedete? A parte gli effetti ai bordi, che ci sono tanti bordi. E questo perché? Perché questa fila si comporta esattamente come una fisarmonica e si apre. e costringe la fila vicina a fare la stessa cosa, la quale a sua volta costringe le successive. E così, in pratica, quando uno fa così, abbiamo una molla distribuita. Una sorta di metamateriale, volendo. Ok? E questo è una delle cose che mi fanno andare fuori di testa per l'origami, il fatto che sia... che possano avere dei movimenti. E in effetti ho tutta una collezione di origami di movimento che magari dopo vi mostro. Però quello che volevo dire è che anche una semplice base quadrata barra triangolare può dar luogo a tutta una serie di cose. Peraltro, riprendiamo la base quadrata, ok? Qui ho disegnato i triangoli che vengono formati, ok? Naturalmente parto da un quadrato, quindi ho quattro alette. Però capita che se uno piega un modello di un certo John Montroll, ottiene qualcosa che assomiglia molto a una base quadrata. Solo che le alette non sono quattro. Le alette sono cinque. Ok? Ho qualche difficoltà. Vedete? Sono inequivocabilmente cinque. E uno si chiede ma com'è possibile? Cioè, qui ne vedo quattro, però se poi faccio sto movimento vedo che c'è... spunta la quinta. Ok? Sono cinque le alette. Da dove K riviene fuori la quinta aletta? E allora qui si scopre una delle cose importanti, e che per capire come è fatto un modello bisogna riaprirlo. E allora se io lo apro, ok, scopro che l'autore di fatto... Qui c'è un cambio di colore per cui una aletta è qua. Di fatto cosa ha fatto? Ha disegnato un pentagono, piegato un pentagono nel quadrato, e ha nascosto tutta la carta in eccesso. Ok? Quindi quello che rimane dopo questa operazione è una base quadrata con cinque alette. Quindi il messaggio qui è, se vuoi capire come funziona, devi aprire il modello. E questo lo vedremo dopo, con un modello lievemente più complesso, che non so più dove ho messo. Immagino che tu sia circondato da origami. Sì, sono abbastanza circondato. Questo è uno scorpione. Ok? È un foglio di carta quadrato. Si vede? Sì, sì, si vede benissimo. È un foglio di carta quadrato. E volendo capire come funziona, dovrei riaprirlo. Ora, riaprire questo, che ci ho messo un'ora e mezza a piegarlo, è fatto con una carta speciale, perché altrimenti si romperebbe, eccetera, eccetera, mi piangerebbe il cuore e ci metterei anche un po' a riaprirlo. Però, ne ho uno già riaperto. E se uno lo riapre, ottiene questa cosa qua. Ok? E qui, dopo torneremo su questo disegno, forse è meglio metterlo così, qui uno vede la struttura del modello. È una struttura molto, molto geometrica. Ci sono tanti cerchi o archi di cerchio, perché se uno è nei pressi dell'angolo il cerchio non è completo. E ogni cerchio corrisponde a una punta. Allora, per capire questo meccanismo, uno deve solo pensare a un ombrello. Ok? Guardate il cerchio centrale, quello azzurro, che rappresenta la coda dello scorpione. Ok? Questo è come se fosse un ombrello aperto. E questo mi dà la carta di cui ho bisogno per avere quella punta. Se poi voglio piegarlo e avere effettivamente quella punta, devo solo chiudere l'ombrello. Ok? E così avrò la mia punta. Naturalmente, se ho una sola punta è facile, se ho tante punte devo pensare alle connessioni tra le punte. E questo, e qui viene il difficile. Peraltro questo non è certamente l'unico scorpione origami che c'è. Io ho fatto uno studio con una dozzina di scorpioni. Questo è un altro scorpione, sempre di Lang. Peraltro uno dei più brutti che ci siano, perché ci sono quattro zampe che sono i quattro cerchi al centro, che in pratica risultano essere sulla schiena dello scorpione invece che sul ventre dello scorpione. E quindi è in qualche maniera molto strano da vedere. Ok. Un'altra cosa sulla base quadrata è questa qui. Vi ho detto che c'è una forza. Ok? La forza data da questo movimento. Ora, se uno guarda qui in questo modello, vede che ci sono tante piccole basi triangolari una vicino all'altra. Ok? Che danno questo movimento. Questo è un cuscino di David Mitchell. È un modello fantastico. E questo è un modulare, è fatto di due moduli. E l'incastro in questo caso è dato da un abbraccio. Io posso aprire. Ok? Aprire i due moduli. E vedo che ognuno praticamente ha un sopra e un sotto, che sono il cuscino completo. Però da questa parte è chiuso, da questa parte è aperto. E tende chiaramente all'aprirsi. Quando sono uno abbracciato all'altro, si tengono chiusi uno con l'altro. È semplicemente la forza data dalla base triangolare, base quadrata, che tiene assieme il tutto. Quindi questo è spettacolare come incastro. Ci sono degli altri tipi di incastri che sono più classici. Questo è un pallone da calcio, per rimanere in tema, la struttura di un pallone da calcio, per rimanere in tema di semifinale. Esatto. Sì. Allora abbiamo i pentagoni, che sono quelli azzurri. Ok? Il pentagono è completamente azzurro. E gli esagoni sono azzurro e rosso. Ok? E questa è esattamente la struttura del pallone da calcio. Quindi uno fa un sacco di matematica per capire questa cosa qua. Vi mostro brevissimamente l'incastro stesso. Allora l'incastro, ogni modulo ha delle punte e delle tasche. Ok? E le punte devono incastrarsi. Questa si incastrerà così, però deve entrare. Questa si incastra così. E questo fa questo movimento così. Ok? Sì. Solo che per incastrarsi davvero, per incastrarsi davvero, devono entrare. Quindi il modulo entra, adesso è dentro. Poi entra il giallo nel verde. ok? E poi il... No, aspetta, lo sto facendo sbagliato. Scusa, provare a farlo al rovescio è devastato. Anche perché comunque noi ci vediamo specchiati. quindi immagino sia terribile per te. Sì, sì, infatti è un casino. Ok. Adesso così i tre moduli sono piatti. quando io metto questo qui si ottiene una specie di piramide. e quando lo incastro per davvero, cioè lo metto all'interno, ho realizzato l'incastro. questo è un incastro che risulta essere molto solido. Questo modello sono 90 moduli. Caspita. 90. Credo siano 90. Non ci farei le scommesse sopra. Questi invece sono 555. Caspita. In questo solido, che è un toro, apparentemente ci sono solo esagoni. Ok? E qui entra in gioco una bellissima matematica che coinvolge le formule di Eulero, eccetera, eccetera. In realtà non sono solo esagoni, perché se fossero solo esagoni, io potrei avere, le api ci insegnano, con solo esagoni tu ottieni un piano. Ok? E poi il piano lo puoi naturalmente deformare così, in maniera da ottenere un tubo di stufa, un cilindro. Sì. Ok? Deformando il foglio piano e chiudendolo sulla giuntura, uno otterrebbe un tubo di stufa. Come faccio a fare le curve? Ok? Questo sembra... In realtà sono dieci segmentini uniti. Allora, torniamo su questo. Allora, il pentagono, quello che dà, è la curvatura positiva, che permette al pallone di diventare un pallone da calcio. Ok? Ci sono sempre dodici pentagoni in una struttura di questo tipo e il pallone da calcio ha dodici pentagoni e venti esagoni. Allora, se uno lo guarda in questa maniera, vede solo esagoni, ma se uno guarda da questa parte, si accorge che ci sono dei pentagoni qui. Quello viola è un pentagono. Ok? E i pentagoni danno la curvatura positiva. La formula di Euler ci dice però che le cose non tornano a meno che non ci sia anche una curvatura negativa da qualche parte, che è all'interno. In pratica, in corrispondenza di ogni pentagono esterno che dà la curvatura positiva, ci sarà un ettagono interno che dà una curvatura negativa, una sella. Ok? E se il numero di pentagoni e il numero di ettagoni sono uguali, le formule di Euler torna, siamo tutti contenti e riusciamo effettivamente a chiudere questo solido. E questo dimostra la robustezza di questo modello e di queste unità che sono le unità zigzag di Tom Hull che è uno degli autori che si sono più dati da fare da un punto di vista matematico per l'origami. Per curiosità, quanto è impiegato a fare questo origami? Questo sono 555 moduli, per piegare un modulo ci vuole circa un minuto, quindi ci vogliono una decina di ore a piegare i moduli e altrettante a montarlo, quindi una ventina di ore. Caspita, è stupendo, è stupendo. Tra l'altro, hai scelto i colori perfettamente, li hai scelti prima di farlo, cioè li hai messi vicini visto che stavano bene oppure? Assolutamente sì, va progettata la cosa. La colorazione dei modelli origami è una delle cose più belle per quanto riguarda i modulari, perché se uno lavora a foglio unico normalmente ha a massimo due colori, il fronte e il retro, con i quali può ad esempio piegare questa. Wow! C'è uno che si è andato sotto. Ok. Questa è una scacchiera 8x8 piegata da un unico foglio di carta, bianco da una parte e nero dall'altra. Ok? Dietro viene così e uno può abbastanza facilmente convincersi di com'è se prova parzialmente a riaprirlo. Vedete? Qui si vede che effettivamente è un foglio solo. Invece con i modulari uno può giocarsi i colori. Questo è un modello in cui ci sono sei stelle che sembrano incastrate una nell'altra. Quella che vedete è quella verde, adesso vedete quella gialla, eccetera. Ce ne sono sei in tutto e qui uno trova una disposizione geometrica. Anche qui c'è una disposizione geometrica di colori che apparentemente sembrano casuali. In realtà sono cinque colori e sei moduli per ogni colore e ogni colore viene disposto secondo una simmetria a cubo. Qui l'arancione ne ho uno sopra, uno sotto, uno a destra, uno a sinistra, uno dietro e uno davanti. E la stessa cosa vale per tutti. Se guardo l'azzurro così ho l'azzurro sopra, davanti, sotto, a destra e a sinistra che adesso non so più come si fanno a vedere perché non capisco niente quando mi vedo storto. Eh sì, sì, ma immagino. È sempre casuale ma in realtà è regolare. Ok. Tra l'altro per i primi complimenti Fulvio dice fantastico e anche prof di Matteo Line che belli. Mi aggiungo io ai complimenti. Questo è il modello di Tom Hall. Questi sono i cinque tetraedri intersecati e qui c'è tanta di quella matematica dietro che non vi immaginate. Piegare questo modello è facile quando tu pieghi il primo il primo tetraedro. Ok? Che potrebbe essere quello più chiaro di tutti. Ok? Dopodiché il secondo questo è il primo il secondo si incastra come due anelli di una catena ok? Opportunamente. Quindi i cinque i cinque tetraedri sono in realtà cinque moduli cinque modelli separati solo che sono incastrati come gli anelli di una catena in qualche modo. E tra l'altro se uno va a vedere le cinque punte quassù una, due, tre, quattro, cinque formano un pentagono. Ok? Se io lo rivestissi con della della come si chiama la carta alluminio da cucina o questa cosa insomma vedrei i pentagoni ne vedrei dodici e questo diventerebbe cioè se unisco tutte le punte all'esterno ottengo un dodecaedro regolare c'è un sacco di roba. Un altro modello carino è quello che si ottiene con cinque moduli io posso fare una stella ok? Poi ne faccio altri cinque ottengo un'altra stella e la incastro così poi ne faccio altri cinque ottengo un'altra stella e la incastro così ok? Il risultato è questo qui 6 stelle incastrate una nell'altra secondo più o meno lo stesso principio solo che questa volta le stelle sono piatte e anche qui la scelta dei colori non è casuale ovviamente non è casuale in realtà sono cinque colori indipendenti e ognuno tra l'altro montare questo modello è un incubo perché la singola stella è facile mettere la seconda incastrata alla prima è facile la terza è la morte perché non riesci a capire ti si muove tutto quindi non hai più punti di riferimento quante stelle erano? mi sono persa il numero 6 6 insieme 6 stelle e ognuna può fare da equatore e avere le altre cinque che si dispongono così un altro questo è un modello che da un punto di vista matematico ha un certo interesse allora è un modello che ho probabilmente lo considero mio anche se sono praticamente sicuro che qualcun altro l'abbia già inventato prima di me perché sono semplicemente delle basi triangolari con delle basi quadrate che si incastrano ok? così ogni volta che aggiungo un modulo alzo di un pochettino l'albero di Natale la cosa intrigante di questo modello è che io posso ritagliare i quadrati da questa struttura allora questa è una 4 ok? lo piego a metà traccio una una riga una piega che va da qui e arriva proprio sull'angolo e poi comincio a disegnare dei quadrati allora questo è il primo quadrato ok? questo è il secondo si appoggiano tutti sulla riga e sulla parte alta ne ho 1 2 3 4 via via più piccoli poi vado sull'altra parte quella che va a morire ok? e qui quanti quadrati posso avere? 1 2 3 4 e poi potrei continuare ok? e siccome questo va a 0 il numero di quadrati che posso ottenere è infinito anche se avrei qualche difficoltà a piegarmi sì esatto per i limiti però però uno potrebbe forse una domanda siccome quando io aggiungo ogni mod ogni ogni segmentino che aggiungo al mio albero lo alzo se ne aggiungo infiniti quanto diventa grande sto albero? ok? questa è una bella domanda matematica è vero una bella domanda perché ci sono delle successioni che vanno a infinito che però tendono più un mezzo più un terzo più un quarto più un quinto va a infinito e altre successioni che invece si fermano molto prima uno più un mezzo più un quarto più un ottavo più un sedicesimo quella credo arrivi a due o qualcosa del genere ok? e questo dove arriva? va a infinito o si ferma qua? perché i moduli teoricamente sono infiniti quelli che io posso metterci su quindi questa è una bella domanda da fare impostata da un da un modello stupido se si vuole perché è abbastanza stupido come modello origami però le implicazioni matematiche che uno può trovare dietro sono tantissime interessante anche a livello didattico si possono fare un sacco di cose con gli origami si possono fare un miliardo in origami ci sono anche queste strutture qua questo è un frattale ok? l'idrangea di Fujimoto è un frattale perché uno ha gli stessi petali questo è il primo petalo poi ha questo che è uguale ma un po' più piccolo poi ha questo non so più dov'è questo poi ha questo 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 sono credo uno due tre quattro cinque sei sette otto l'idrangea ha otto livelli ma io potrei andare avanti perché se se da dietro lavoro su questo quadratino qua quello centrale e ci faccio un po' di pieghe posso guadagnare della carta che poi mi ritrovo da questa parte per fare un altro giro di di petali quindi non ho limite al numero cioè il limite è dato dalle mie ditta e dalla carta che a un certo punto non gliela fa più questo è un altro modello frattale simile a base esagonale anche lui è di Fujimoto anche se io non lo sapevo e me lo sono più o meno reinventato però in realtà poi ho scoperto che l'aveva già fatto lui e quindi vabbè sono stato contento di averlo inventato anch'io no infatti è un bel record un altro frattale è questo questo è fantastico questo è un frattale di Chris Palmer che è un americano e questo è l'unico frattale che conosco che si può aprire che si può vedere che wow e la cosa speciale di questo non è tanto che si apre ma che si chiude perché la carta ricorda e quindi uno lo può aprire e chiudere in maniera incredibile questa è una delle cose che mi fanno andare fuori di matto cioè come vedo certi modelli io li devo piegare è successo per il toro è successo per questo è successo per questo che vedremo vedremo dopo e altri anche se magari i diagrammi non ci sono però tu dal modello come lo vedi e come io questo l'ho ricostruito a partire da un pezzo di filmato in cui si vedeva qualcosina si vedeva il movimento più che altro e da qualche indicazione trovata in rete me lo sono in qualche maniera reinventato cosa che è successa anche per un altro modello di cui parleremo dopo comincierei a fare la mia presentazione va benissimo va benissimo tu dimmi quando ti impianto si tu hai il compito di fermarmi però perché io ho il compito di fermarti eh? no no cioè se sai che a me piacciono un sacco queste cose quindi ti lascio parlare come? ok vabbè è colpa tua però allora va bene dai la prenderanno tutti con me io condivido lo schermo credo sì adesso hai condivido lo schermo devi solo metterla nella presentazione io non vedo più io vedo solo la mia presentazione sì ok allora adesso io la condivido così tutti la vedono ok ci siamo allora origami matematica partiamo allora prima veramente pochissime parole sulla storia dell'origami le origini sono incerte probabilmente in Cina dove è nata la carta nel primo secondo secolo dopo Cristo anche se è un'arte che è considerata giapponese però probabilmente i giapponesi sono arrivati un po' dopo i cinesi peraltro anche in Egitto in Europa c'erano pergamene c'era il papiro e probabilmente venivano piegati anche loro quindi quindi è un po' un po' incerto le origini non si sa molto la parola origami viene da due parole giapponesi che sono ori e kami che significano piegare carta oltre a altri significati e da lì la parola origami che è indeclinabile quindi si dice un origami due origami eccetera non origamo ok peraltro la parola origami viene dal tedesco Papier Falten che è un termine che è stato introdotto da Frobel un pedagogista tedesco nel diciottesimo secolo qualcosa del genere è stata poi portata in Giappone da un paio di allieve di Frobel che sono andate in Giappone hanno sposato dei giapponesi e hanno usato l'origami che Frobel aveva aveva visto essere uno strumento potentissimo per insegnare la matematica la geometria ai ragazzi quindi aveva formato proprio una scuola in cui c'erano questi insegnanti che poi insegnavano i loro ragazzi che piegavano tantissimi modelli i modelli più antichi di cui si ha conoscenza sono la gru che è probabilmente l'origami più famoso il masu che è una scatolina e il nosci che sono queste decorazioni che sono i primissimi origami da un punto di vista dei libri fino a poco tempo fa si pensava che il libro più antico di cui si avesse notizia fosse questo il Sembazuru Orikata qualcosa del genere Orikata non origami non c'era ancora il termine origami del 1797 finché uno storico dell'origami John Salas non ha scoperto lui è anche un topo di biblioteca oltre altre cose il trattato delle piegature scritto a Padova da un tedesco che era emigrato in Italia e questo è parte del contenuto di questo libro di Mattia Giger un tedesco quindi che è venuto in Italia e mostrava come piegare non la carta ma i tovaglioli questi sono degli esempi di piegatura di tovaglioli e lui non mostrava i diagrammi mostrava solo la tecnica dopodiché era l'artista che piegava queste figure in occasione di banchetti che i banchetti duravano magari una settimana e queste figure alla fine del banchetto venivano poi distrutte non lo so venivano smontate insomma è rimasto solo traccia nei disegni in realtà io ho visto alcuni di questi a Vienna in qualche museo a Vienna questo è un esempio di figura di modello e questa è la ricostruzione che Joan Sallas ha fatto perché lui si è poi messo a provare a ricreare queste sculture di tovaglioli fatte in questa maniera qua in realtà sono tanti tovaglioli assemblati tipo un tovagliolo per il braccio un tovagliolo per la testa eccetera eccetera non sono modelli complessi come quelli che si riescono a fare oggi vederla così non sembra neanche fatta con i tovaglioli talmente bella sembra una partita di plastica di altro materiale invece è incredibile proprio con i tovaglioli è incredibile è incredibile sono tovaglioli che vengono inamidati c'è tutta una procedura che conosce solo John Sallas di cui credo sia anche abbastanza geloso per cui la sa fare solo lui questa cosa ecco tornando cioè andando avanti con i tempi moderni Akira Yoshizawa è un giapponese che ha elevato l'origami a livello di arte ha creato decine di migliaia di modelli questo è un suo autoritratto in origami naturalmente e ha contribuito alla creazione dei diagrammi che sono un linguaggio universale grafico che permette di tramandare un origami cioè se io invento un modello lo posso diagrammare e un altro origamista dall'altra parte del mondo lo potrà piegare nascono i modulari nascono le associazioni vengono definiti degli assiomi dei teoremi origami che permettono di costruirci sopra una geometria che risulta essere più potente della geometria riga e compasso e poi si è arrivati alla guerra degli insetti dove c'è stato un periodo negli anni 80-90 del secolo scorso in cui a ogni convegno origami ognuno portava un modello che era via via più complesso tipo uno arrivava con la formica ok la formica con sei zampe l'anno dopo arrivava quell'altro che aveva la formica con le sei zampe più le due antenne la volta dopo arrivava quell'altro che aveva fatto lo scorpione e via così si è arrivati a piegare la la coccinella ok che ha sei zampe ha le le ali sopra le ali ci sono le coperture delle ali che hanno il doppio colore ok perché ci sono i puntini neri e con un unico foglio di carta quadrato bicolore si riesce a fare la coccinella con tutte queste cose qua ok questa è la guerra degli insetti che non è una vera e propria guerra ma è una guerra tecnologica in questo modo la tecnologia origami quello che c'è dietro l'origami la matematica e la geometria che ci sono dietro si sono evolute fino ad arrivare ai livelli di oggi dove uno può progettarsi il suo scorpione per far questo fondamentali sono i diagrammi c'è una serie di simbologia che è universalmente riconosciuta ormai in tutto il mondo anche se in alcuni libri origami che si trovano in giro ancora oggi non viene rispettata è una cosa vergognosa ma insomma è così comunque tra gli origamisti i diagrammi sono universalmente riconosciuti sono questi e questi cioè quelle di prima erano la simbologia questo è un esempio di diagramma per costruire la base quadrata sono una sequenza di disegni numerati su ogni disegno ci sono le tracce da fare che sono date dalle linee tratteggiate in qualche modo e le frecce che indicano cosa fare piega e riapri piuttosto che piega eccetera eccetera e seguendo la successione di disegni uno arriva alla fine del modello anche molto complesso ogni modello ha un autore chiaramente esiste una geometria origami basata su assiomi e teoremi allora vi faccio vedere uno degli assiomi origami l'assioma più semplice dell'origami è dati due punti è possibile tracciare una linea che unisce i due punti ok una linea retta che unisce i due punti un'altra assioma è dati due punti se porto un punto sull'altro ottengo un'altra retta che risulta essere l'asse del segmento che li unisce e cose di questo tipo la geometria origami ha qualcosa in più perché riesce a fare dei movimenti che con righe e compasso non si riescono a fare l'assioma numero 6 dice più o meno se tu hai due rette e due punti si vede? ecco ti volevo dire alza un po' il foglio magari ok adesso perfetto perfetto si vede? allora la assioma numero 6 dice io ho due punti questo rosso e questo azzurro ho due rette questa rossa e questa azzurra a parte alcuni casi tipo se le rette sono parallele o cose del genere io posso portare fare una piega che permette di portare il punto rosso sulla riga rossa il punto blu sulla riga blu ok e adesso l'avevo fatto prima in realtà io dovrei provare a muovere la carta finché trovo la posizione in cui in cui i due si sovrappongono davvero ok che è questa e traccio questa piega quindi questa è una mossa che dà qualcosa di più rispetto alla riga e compasso perché io riesco a giocarmi due posizioni allo stesso momento ok questo in realtà equivale a la linea che vado a piegare si dimostra essere la tangente a due paraboli a due parabole una che ha fuoco qui e direttrice qui e farà tipo una roba del genere l'altra che ha fuoco sul punto rosso e direttrice sulla retta rossa e farà una roba tipo così ok quindi questo equivale in qualche maniera a trovare la tangente a due parabole il che in qualche modo anche se non conosco i dettagli matematici della cosa sono solo un ingegnere equivale a risolvere un'equazione di terzo grado ok quindi questo è quello che dà qualcosa in più alla geometria origami rispetto alla geometria con riga e compasso e di fatto è possibile con l'origami ad esempio dividere un angolo qualsiasi in tre parti uguali una costruzione che è stata dimostrata a essere impossibile con riga e compasso e ce ne sono tante altre tipo ci sono alcuni poligoni regolari lettagono sette lati che è possibile piegare correttamente in origami e non con riga e compasso e sicuramente ogni costruzione possibile con riga e compasso è possibile anche con l'origami facciamo un paio di esempi facili di geometria origami allora io parto da un quadrato traccio una linea centrale ok e poi porto faccio due pieghe simmetriche che portano un angolo sulla linea centrale e la piega deve partire dall'angolo in basso ok lo faccio a destra e a sinistra quello che ottengo è questa figura qua ora la domanda è ho ottenuto un trapezio che è composto da quattro triangoli il triangolo verde grande che triangolo è devo io dare la risposta mi dai anche gli ascoltatori io lo so io lo so già la risposta mi dai che ti ascolta scommesse che triangolo è allora per simmetria direi che è sicuramente almeno isoscele perché il lato di destra e il lato di sinistra sono uguali ma è anche equilatero e la risposta è sì perché i tre lati del triangolo sono tre dei quattro lati del quadrato che sono uguali quindi anche quei tre lati lì sono sono uguali quindi quello è un triangolo equilatero e quindi quelli sono esattamente 60 gradi e quindi io ho una maniera molto semplice mi bastano due pieghe per ottenere esattamente 60 gradi e questo è un esempio di geometria che viene usato tutte le volte che tu devi costruirti un esagono regolare che serve spesso un altro esempio scusami volevo dire semplicemente nelle dimostrazioni matematiche diremmo abbiamo costruito questo triangolo per costruzione equilatero per costruzione qua di fatto la costruzione l'abbiamo fatta realmente esatto è potente per questo perché tu lo fai lo pieghi e quindi capisci veramente cosa significa per costruzione esatto esatto e aggiungo una cosa quando tu in una classe fai costruire qualcosa e loro si ritrovano tra le mani un cubo o un ottaedro che non sanno neanche com'è è completamente intanto lo devono costruire quindi devono capire come costruirlo e questo glielo fa rimanere in testa quindi lo imparano per davvero perché un conto è avere tra le mani un ottaedro e girarselo guardarselo toccarlo eccetera un conto è vederne una figura sulla pagina di un libro che è una rappresentazione bidimensionale dell'oggetto tridimensionale non puoi davvero capire com'è se lo costruisci diventa tuo lo capisci per davvero certo sicuramente tra l'altro poi magari alla fine della diretta diamo qualche dritta su qualche pagina da seguire visto che ci sono anche tanti convegni sull'origami poi insomma alla fine ci dirai tutte queste info intanto ti lascio andare avanti con la presentazione sì questo è un altro esempio di divisioni esatte in origami allora questo è il solito quadrato ci sono dei segnetti che dividono in quarti i due lati sopra e sotto e delle linee che sono lì solo per riferimento ok questo è un riferimento nostro non vengono davvero piegate allora se uno guarda questi queste cinque questi sei punti ok questi sei punti per il teorema di Talette sono equidistanti ok abbiamo una serie di linee parallele equispaziate una un'altra retta che le attraversa e quindi questi sono per il teorema di Talette equidistanti e anche da questa parte sono equidistanti qui sono quattro i punti e tre i segmenti quindi se io faccio solo queste tre pieghe qua questi tre marker diciamo queste tre posizioni sul mio foglio di carta quindi metà metà e un quarto poi faccio le due diagonali e poi traccio questa piega ok io con pochissime pieghe ottengo la divisione in quinti e la divisione in terzi in un foglio che peraltro entrambe sono divisioni in quinti sia in orizzontale sia in verticale sia in diagonale e queste non sono divisioni facili però in origami le trovi molto molto facilmente e questo è un esempio un altro esempio di geometria origami applicata alle divisioni le divisioni si possono applicare anche alle aree c'è una maniera molto astuta di dividere un foglio in cinque parti uguali come area un altro esempio di divisione è questo allora io devo dividere in tre ok e faccio una prima divisione che è circa un terzo la faccio a occhio ok quindi quello che ho è che da una parte ho un terzo più un errore ok l'errore è quanto il mio occhio ha sbagliato nell'indovinare ma c'è di sicuro perché non posso indovinare davvero la posizione di un terzo dall'altra parte ho due terzi meno l'errore ok se io sommo le due quantità ottengo due terzi più un terzo diventano uno errore meno errore si annullano ok quindi ottengo uno quindi questa è la mia prima ipotesi di un terzo se adesso divido a metà la parte lunga cosa ottengo la parte di sinistra è la metà esattamente la metà del due terzi meno l'errore quindi il due terzi diviso due diventa un terzo e l'errore diviso due diventa errore mezzi cioè la mia seconda ipotesi è la metà ha la metà dell'errore rispetto alla prima ho dimezzato l'errore e se continuo così continuo a portare l'angolo lontano sull'ultimo segnetto che ho fatto che si chiama pinch per inciso in origami continuo a trovare ogni volta che faccio una di queste pieghe di mezzo l'errore quindi al passo 3 sono all'errore diviso 4 errore diviso 8 errore diviso 16 e in pochissimi passi ho due serie convergenti di punti che convergono rispettivamente a un terzo e due terzi ok e questa procedura può essere generalizzata per trovare qualsiasi numero quindi questo è il concetto dei limiti ho due serie convergenti che convergono esattamente a un terzo e due terzi e può essere generalizzato peraltro anche la procedura di prima questa qui per trovare un terzo può essere generalizzata dato che io ho una divisione in ottavi ad esempio posso in maniera con due pieghe trovare la divisione in noni cioè se ho una divisione in n posso trovare n più 1 ok in maniera esatta anche se non è la maniera migliore di farlo i modulari abbiamo già intravisto alcuni alcuni dei modulari si sottolinea che in origami non viene usata la colla ok vengono utilizzati degli incastri che sono a volte molto solidi come quello che ho mostrato prima a volte sono qualcosa di incredibile come questo si vede? si vede si vede bene questo è un modulo che è una base triangolare dove le quattro alette sono arricciate adesso non la tiro fuori tutta se no poi non riesco più a rimetterla dentro no no non farlo però quello che che tiene assieme il tutto sono i riccioli ci sono riccioli da tre riccioli da cinque c'è una geometria molto 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 forte qua in questa in questa palla sono pentagoni intervallati da da triangoli equilateri e questo questo da da veramente apre dei mondi questi sono modulari con due moduli uno deve avere almeno due moduli per poterlo fare il cuscino di prima è un tetraedro 30 moduli ti danno tipo icosaedri o dodecaedri o cose del genere o puntuti o non puntuti eccetera con 555 moduli si arriva a questi in realtà ci sono un miliardo di variazioni di questo cosa qua devono rispettare le regole però puoi avere diversi diversi cioè il numero 555 vale per questo ma ce ne sono altri questo è un altro toro fatto con i moduli allora questi sono i 555 moduli ognuno del suo colore ordinati e poi questa costruzione è stata fatta nell'arco di una notte dalla sera alle 9 alla mattina alle 6 o qualcosa del genere si è costruito wow ecco specifichiamo che tutto quello che ci fai vederlo l'hai fatto tu giusto? non tutto meno non tutto ok ok però questo si il fatto il fatto io implica piegato io in realtà si esatto piegato questo per esempio l'hai fatto tu questo l'ho fatto io l'hai piegato tu ok si però la struttura è una struttura di Tom Hall e i moduli sono i moduli di Pardo Jorge Pardo che è una modularista spagnola questo è questo ad esempio non l'ho fatto io con 6 biglietti da visita in cui uno piega semplicemente le due elette laterali a formare una specie di U ok uno riesce a costruire un cubo che sta miracolosamente assieme perché non ci sono punte non ci sono tasche stanno così e uno dice vabbè è già un miracolo che stia così non carichiamolo oltre in realtà uno può usare le due elettine per incastrarle nelle due elettine di un altro modulo di un altro cubetto e ottenere una fila di cubetti e può porsi il problema di costruire una spugna di Menger che è un cubo in cui vengono tolti dei cubi interni in pratica ogni faccia viene divisa in 3x3 e si toglie il cubo centrale ok e si toglie anche il cubo centrale centrale quindi rimangono 20 cubetti se uno fa i conti dovrebbero rimanere 20 dei 27 originari questa è la spugna di Menger di livello 1 questa è la spugna di Menger di livello 2 dove si applica la stessa procedura a ognuno dei cubetti che rimangono e questa è la spugna di Menger di livello 3 la prima che è stata fatta da Janine Mosley negli Stati Uniti e questo è credo a tutt'oggi non sono sicurissimo ma credo di sì il modulare con più moduli mai fatti sono oltre 66.000 biglietti da visita e riescono effettivamente a fare questa struttura questo è un frattale mostruoso e c'è credo ne abbiano fatti una quindicina nel mondo di questi uno è stato fatto anche a Trento al Muse con un progetto cumulativo cioè insomma i visitatori che venivano montavano ognuno qualche cubetto e poi si assemblavano è stato un lavoraccio e io centro pochissimo in questa cosa qua è stata una cosa del Muse non sono stato io né l'ispiratore né il realizzatore questi sono altri frattali li abbiamo visti anche prima queste sono delle tassellazioni qui ci sono il muro di Momotani un paio di nidi d'appe alveari e cose del genere le tassellazioni sfruttano spesso anche le trasparenze e danno luogo a geometrie bellissime ma ci sono anche dei modelli che in realtà di geometrico hanno poco o nulla tipo questi Jiang Din è un origamista vietnamita che fa del cartoncino bagnato e della semplicità la sua regola è less is more cioè meno ci metti più hai la sua regola è cercare di togliere il più possibile fino a lasciare l'essenziale e questo è il risultato del suo lavoro questo è il cartoncino bagnato ognuno di loro è un foglio di carta questo è un modello di media complessità però di bellezza inarrivabile di Roman Diaz un origamista veterinario uruguagio uruguagio? sai che non lo so me lo stavo chiedendo intanto che lo pronunciavi dell'Uruguay vabbè dell'Uruguay dell'Uruguay siamo sicuri lui fa dei modelli che sono eccezionali anche da un punto di vista tecnico hanno dentro delle soluzioni che sono veramente belle piegare i suoi modelli è una sfida però è bellissimo questo è uno degli origamisti più complessi al mondo Satoshi Kamiya wow e questo è un unico foglio di carta allora uno può cominciare a porsi la domanda ma com'è Cuppery si fa a progettare un modello del genere che solo a piegarlo con i diagrammi ci metti 4 ore se riesci a piegarlo come fai a progettarlo in anticipo e dopo parleremo di questo questo è un modello di Robert Lang tutte queste foto sono i modelli loro non li ho piegati io quindi qui abbiamo un qualche tipo di insetto con 6 zampe che hanno tutta una serie di modellazioni pazzesche le singole zampe e poi ha un milione di corni contro corni e anche questo è un quadrato di carta senza taglie quindi è pazzesca la complessità che si riesce a raggiungere qui c'è Eric Gioasele è uno dei miei autori preferiti questi sono dei rettangoli non sono dei quadrati lui è forse un po' meno tecnico dei precedenti però ha uno stile inarrivabile nel senso che lui riesce davvero a dare vita ai modelli allora uno dei problemi quando uno piega un modello complesso è la fisarmonica di carta che devi ottenere per avere una punta stretta la ottieni normalmente con un sacco di di sync uno dentro l'altro e alla fine tu li cerchi di nascondere questi sync perché danno se uno guarda il coso prima non li vede non vede gli n strati di carta ma ci sono e come ci sono e qui il tentativo è nasconderli lui invece guardate le gambe dell'arricchino lui li usa li usa per dare volume i pantaloni non sono altro che tutti gli strati di carta che formano le gambe ok e lui su queste cose è davvero un maestro guardate il donkey shot anche lì ci sono cioè lui ha un uso delle tassellazioni che ti portano a guadagnare carta in tutte le direzioni per fare tutte le le braccia le gambe che inarrivabili davvero purtroppo non c'è più però veramente io credo sia il mio preferito ok allora arriviamo alla domanda come fa Lang o un altro a sapere prima che certe sequenze di pieghe che sono incomprensibili se uno comincia a piegare il suo scorpione all'inizio veramente non capisce da dove vengano fuori queste cose e allora come si fa e per anni la mia risposta è non lo so i primi anni non mi sono nemmeno posto questa domanda eseguivo e basta poi a un certo punto ho cominciato a chiedermelo e e allora la domanda più generale è come si fa a inventare un origami i metodi sono essenzialmente due uno per caso allora io dopo un po' che piego ho una serie di attrezzi ok un attrezzo è la piega la valle un altro attrezzo è la base quadrata un altro attrezzo è il sink o il twist o la rovesciata interna eccetera ognuna di queste mosse è un qualcosa che una volta che ce l'ho la posso applicare un po' a casaccio su un foglio di carta ok e in questa maniera a un certo punto può essere che io intraveda qualcosa mi sembra che venga fuori un cane ok e allora comincio a lavorare per farlo diventare un cane che ci assomiglia un po' di più e quindi in questa maniera qua partendo per caso io riesco a creare dei modelli succede non per modelli complicatissimi ma succede oppure progettandolo e allora uno deve cercare di capire la struttura e deve può cercare di partire da una base nota ok io so già che una base mi dà cinque punte ho bisogno di cinque punte allora uso quella base ok oppure me la invento io la base perché voglio creare un modello che abbia certe caratteristiche e allora qui c'è il discorso di prima riaprite il foglio se volete capire riaprite il modello se volete capire com'è fatto vediamo un attimo quel discorso dell'ombrello di prima guardate quella specie di cerchio centrale quello è l'ombrello aperto e la carta di cui c'è bisogno per fare quella punta è tutta quella dell'ombrello nel momento in cui io la chiudo ok ottengo la punta che si vede sulla destra naturalmente se io cerco una punta nel mezzo della carta avrò un sacco di spicchi 16 in questo caso e dovrò faticare per avere quei 16 spicchi se mi metto sul bordo della carta ne ho solo 8 se mi metto nell'angolo che è la posizione più favorevole ne ho solo 4 quindi è più facile ottenere una punta in un angolo che non al centro questo è il concetto base però tutti quanti sono possiamo intravedere tre tre ombrelli aperti in questo caso di cui i due sono parzialmente fuori dal foglio e queste sono quattro basi classiche in origami la base dell'aquilone del pesce della gru e della rana che danno rispettivamente una, due, quattro e cinque punte ok peraltro questo è un esempio questo è un esempio di utilizzo in qualche maniera approssimativo di 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 una base la base della gru abbiamo appena visto mi da quattro punte che sono i quattro i quattro angoli essenzialmente e se io voglio costruire una giraffa che ha quattro zampe e il collo molto lungo avrei bisogno di cinque punte quindi qualcuno si è inventato di fare una giraffa che ha tre zampe e o rimane con tre zampe e la devi guardare rigorosamente di profilo e sperare che uno non si accorga che dietro ce n'è una sola oppure usi il taglio tagli in verticale la zampa dietro così ne hai due però è una soluzione diciamo insoddisfacente dal punto di vista origamistico però sono modelli che ci sono e si trovano ancora nei famigerati libri di origami che si trovano in giro a questo punto arriva Peter Engel che ha scritto un libro che è il libro che ha l'introduzione origamistica migliore che io abbia mai letto in cui lui spiega facendo un sacco di esempi e trovando un sacco di similitudini con la musica con mille cose comunque nota che in natura lo stesso modulo base viene ripetuto molte volte pensate a un albero a diverse scale per formare figure complesse e si chiede possiamo fare la stessa cosa in origami allora lui comincia a notare che le quattro basi che abbiamo appena visto prima le quattro basi classiche hanno tutte quante lo stesso pattern la stessa configurazione che è un triangolo che è mezzo quadrato in cui ci sono due pieghe una bisettrice e una perpendicolare apparellato ok se voi guardate le quattro figure in scure sono tutte uguali in realtà nel primo caso abbiamo due moduli e mi danno una punta lunga nel secondo caso i moduli sono quattro e abbiamo due punte lunghe quindi raddoppiamo il numero di moduli e raddoppiamo il numero di punte nel terzo caso raddoppiamo ancora otto moduli e quattro punte lunghe i moduli sono tutti uguali speculari magari ma sono sempre lo stesso modulo e poi qui il numero di moduli raddoppia ancora sono sedici però le punte non raddoppiano più ok non sono otto uno si aspetterebbe vista la successione otto perché qui sono solo cinque perché io ho esaurito le punte comode ok le prime quattro quando ne ho una due o quattro usano alcuni dei alcuni degli angoli del quadrato se ne voglio cinque la quinta non può essere in un angolo in questo caso è al centro ok e questo è il motivo per cui il raddoppio non vale più insomma ottenere la punta al centro mi costa molto di più rispetto a ottenere le punte agli angoli allora lui cosa ha detto ok proviamo a prendere un quadrato lo divido in quattro parti e sono una delle quattro la considero come un foglio indipendente e applico una delle basi che conosco ok quindi il singolo il singolo moduletto il singolo quarto di quadrato lo so piegare ok faccio un po' più di fatica e li piego tutti quanti così ottengo molte punte in più e questi sono alcuni dei modelli che lui ha presentato tra l'altro lui è il primo origamista che nel suo libro ha pubblicato i crispatter le mappe delle pieghe cioè questi disegni che mostrano la struttura del modello e che fanno capire non è così istantaneo capirlo però fanno capire molto a uno che che ci ha abbazzicato un po' diciamo qual è la struttura che c'è sotto peraltro lui ha anche fatto un centipede da un rettangolo e questa è una cosa importante cioè se tu vuoi avere immaginate la fisarmonica di prima ok questa qua ogni quadrato mi dà due zampe in più cioè il primo quadrato mi dà una, due, tre, quattro zampe col secondo quadrato le zampe sono già sei e ogni quadrato che io aggiungo ho altre due zampe quindi voglio mille zampe basta avere cinquecento quadrati in fila ok a questo punto qualcun altro ha cominciato a usare questa cosa e a costruire delle strutture questo è un esempio in cui uno utilizza cioè il quadrato è sempre uno però viene suddiviso in maniera da costruire tre basi della gru due piccole e una grande per avere le zampe con le dita dell'uccellino ok la carta in più negli altri due angoli viene usata per fare il becco da una parte e una coda un po' più ricca dall'altra parte quindi questo meccanismo è stato effettivamente applicato però qui stiamo ancora usando delle basi che sono classiche sono delle basi della gru ancora dopodiché uno può anche arricchire il suo il suo il suo modello con delle tassellazioni questo è il coil la carpa giapponese e se uno prima di iniziare a piegarla fa questa sequenza di pieghe mostruose su un foglio di carta molto grande ottiene ancora un quadrato un po' più piccolo dove in una porzione del modello quella segnata in scuro qui ci sono effettivamente tutte le scaglie ok dopodiché uno comincia a piegare il modello e ottiene il pesce con le scaglie da questo qui si vede? stavo parlando col microfono spento comunque si si vede benissimo questo questo è proprio lui è un unico foglio di carta carta pelle d'elefante e il risultato è spettacolare non so se si vedono bene le scaglie ma qua ci vuole una pazienza per fare questa cosa ci vuole sì ci vuole molta pazienza per fare questa cosa anche perché di questo non c'erano i diagrammi i diagrammi ci sono del COI senza scaglie dopodiché c'erano un po' di informazioni sparse su come fare le scaglie però il calcolo di dove metterle infatti non è preciso perché in questa parte qua le scaglie non ci sono più ho sbagliato i conti quando l'ho fatto ma l'ho fatto una volta allora uno comincia a chiedersi ok abbiamo queste molecole qui ci sono solo queste o ce ne sono anche altre in realtà si scopre che ce ne sono uno può inventarsi le sue molecole in generale qualsiasi poligono uno prenda può farci qualcosa qui c'è un rettangolo che ha qualcosa di diverso dagli altri mentre gli altri mostrano solo gli archi di cerchio che ricordiamo sono gli ombrelli aperti e quindi mi danno le punte il rettangolo ha qualcosa di diverso ha anche un rettangolo in mezzo che va a separare due gruppi di punte o due punte a sinistra una lo chiamano river un ruscelletto che separa le due punte di sinistra dalle due punte di destra ok questo coso dà topologia mentre in tutte le basi che abbiamo visto fino adesso le basi quadrate eccetera eccetera tutte le punte hanno origine dallo stesso punto ok scusate il bisticcio però sono tutte radiali da un unico punto qui le punte sono distanziate c'è una struttura in mezzo che separa le due punte di sinistra dalle due punte di destra quindi permette di dare una topologia al modello questo è un esempio di Chris Pattern di un modello complesso uno dei più difficili da piegare che che io abbia trovato questo è il modello piegato la tarantola che ha otto zampe allora è un modello che è difficilissimo da piegare per via dei pedipalpi che sono questi due che sono che sono tremendi perché sono due delle quattro dei quattro cerchi nel mezzo della carta ma l'eleganza è data dal fatto che le otto zampe ok sono le più facili da piegare le otto zampe in realtà sono sono tutte all'esterno della carta nessuna di loro sfrutta è da notare questa cosa i quattro angoli cioè le quattro posizioni più comode non vengono usate sono effettivamente un disturbo questo modello sarebbe più facile da piegare sarebbe più facile da piegare da un ottagono che non da un quadrato perché effettivamente le punte delle otto zampe sono esattamente il cadono esattamente sull'ottagono che potete intravederlo l'ottagono andando a cercare le punte degli otto cerchi esterni dopodiché ci sono i quattro cerchi interni che danno questo fa sì che le otto punte abbiano tutte quante lo stesso spessore se lui avesse messo quattro punte sui quattro angoli che sono più facili sarebbero venute delle zampe più sottili e le altre punte in qualche altro posto sarebbero state più grosse e quindi il modello sarebbe stato il ragno alla fine sarebbe stato più asimmetrico rispetto a quello che è lui in realtà Lang che è l'autore di questo modello qua ha costruito cioè ha sviluppato la teoria questa teoria dei cerchi e dei river la formalizzata anche altri in Giappone avevano fatto delle cose del genere con approcci livellamente diversi eccetera eccetera però noi in occidente ne abbiamo saputo pochissimo perché quelli scrivono un giapponese e è difficile da capire cioè vedi solo le figure e dice vabbè comunque lui ha sviluppato la teoria ha scritto un libraccio che dopo vi mostro questo qua ha questo tomo qua è un libro di tipo 600 pagine di diagrammi formule e di tutto è un libro mostruoso caspita ovviamente tu l'hai letto sì sì ho saltato solo qualche formula verso la fine c'è una pagina e una pagina di formule perché lui non ha solo sviluppato la teoria ha anche scritto un software che ti permette di progettare un origami cioè tu gli dai la struttura topologica che vuoi e lui ti dà una o più soluzioni diverse da qualche parte c'è una pagina dove ci sono una dozzina di prototipi di tarantola ok e poi è un problema di ottimizzazione perché il problema adesso di progettare la tarantola diventa il problema di come dispongo matematicamente i cerchi nel quadrato ok quindi lui dice al suo software dammi una configurazione con otto otto cerchi uguali nel nel foglio e lui e quell'altro produce quanto ne vuole ok e in effetti poi lui sfrutta questo software per avere dei suggerimenti perché il software gli propone delle soluzioni alcune dice no questa non va bene perché ad esempio ha 4 zampe negli angoli e quindi verranno molto fini e le altre 4 sono 2 al centro 2 sul lato per cui le 2 al centro mi faranno morire e verranno fuori delle zampe che sono pesantissime e quindi non puoi avere un ragno con una zampa pesante e una zampa leggera ok cioè dal punto di vista dell'estetica viene uno schifezzo quindi lui poi applica quello che il software gli propone e ci fa le sue modifiche in qualche modo lo pessimizza ogni tanto però questo è quello che quindi lui si è iscritto al software e lo usa per progettare i suoi modelli questo è lo scorpione di prima ok questo è lo scorpione sul crease pattern che viene fuori fatto a mano e questo è il crease pattern vero quello che Lang ha pubblicato dove si vedono tutte le posizioni dei cerchi ok che sono grosso modo nelle posizioni che ho segnato io sul mio coso in rosso ci sono le zampe le otto zampe questo si chiama lo scorpione vari leg perché ha le zampe che hanno una lunghezza variabile nello scorpione le zampe posteriori sono più lunghe quelle anteriori sono più corte e lui rispetta questa cosa in effetti si vede che le due i due cerchi in basso al centro sono più grandi degli altri laterali ok lui ha posizionato praticamente tutti i cerchi eccetto quello della coda sono tutti sul sul bordo della carta quindi costano poco da un punto di vista delle pieghe necessarie per farli ci sono anche due punte in realtà due cerchi che sono cerchi di lavoro da un luogo a due punte che non vengono effettivamente utilizzate sono nascoste all'interno del modello e sono i due piccoli che non sono al centro e peraltro avrebbe potuto anche usare il cerchio in alto al centro per creare due cerchietti e fare delle mandibole cosa che invece ha preferito non fare per la pulizia in effetti è lo scorpione più pulito che esista che esista è veramente il mio preferito in realtà uno può notare qualcosa di strano sulle chele perché le chele sono rappresentate con due cerchietti più due specie di braccia ok questo non è un cerchio mentre io ho fatto dei cerchi verdi per indicare le chele in realtà le chele sono formate da due cerchietti che sono le pinze delle chele e un braccio che è quello che le unisce il braccio è rappresentato in verde e è il river è quello che separa topologicamente le due puntine delle chele dal resto dello scorpione ma non c'è solo quello ci sono anche tutta una serie di altri river che separano le varie zampe ok adesso li vedete evidenziati con i colori e se uno va a vederli effettivamente ogni ogni zampa di destra è separata dalla sua zampa vicina sempre di destra dalla stessa della stessa quantità ok dal river c'è un primo river bianco poi uno giallo poi uno rosso e poi uno viola e questi fanno delle cose strane la proprietà di un river è che deve mantenere sempre lo spessore costante nel corso delle sue cose e non può interrompersi chiaramente quindi deve girare finché esce dal foglio entra nel foglio e esce dal foglio oppure fa tutto un giro volendo e questo è la sua grande il grande contributo che permette di dare una topologia a questo modello e questo modello è stato generato dal computer in effetti quando comincia a piegarlo le posizioni dei cerchi sono posizioni assurde tra l'altro sono bellissimi da vedere anche proprio geometricamente quindi il foglio aperto ha una geometria che è bellissima da vedere intanto mi sono proprio persa a guardare tutte le varie componenti geometriche cioè ci sono delle geometrie ce n'è uno che è un altro di là sempre l'Ange io ne ho un pochi di cose ce n'è uno che è bellissimo questo lui sì l'Ange 88 allora questo non so se si riesce a vedere però la parte di sotto ok è in pratica una 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 base classica ok sono questa è una base del pesce questa è un'altra base del pesce quindi la parte sotto che dà le chele e metà della coda è una base classica qui tra l'altro lui ci ha messo anche le le come cavolo si chiamano le mandibole invece la parte alta che è quella dove ci sono le zampe ok le zampe sono tutte equidistanziate quindi qui ha una divisione in settimi uno due tre quattro cinque sei sette cioè geometricamente è bellissimo poi siccome le punte di questi di queste cose e anche queste due non sono sul bordo della carta soffri per avere questa ok però la struttura geometrica di questo è è elegantissima e questa è dell'88 è uno dei primi scorpioni che ci sono e è veramente elegante quindi studiando questi scorpioni che che ho studiato tutti i Chris Pattern eccetera si può davvero dire che c'è stata un'evoluzione della tecnologia origami perché i primi scorpioni che c'erano erano di virtuosismi di qualcuno che era capace di tirar fuori punte da tutte le parti non si sa bene come eccetera e poi invece mano a mano che la tecnologia si è affinata vedi che ci sono proprio delle degli improvement tecnologici dietro ecco tecnologia che è stata usata anche per mandare satelliti nello spazio giusto con satelliti quello che sto inviando tra un po' tra un po' ci arriviamo ah ecco perfetto allora non dico niente un'ultima cosa un qualcosa di inaspettato allora se io uso una molecola che è un parallelogramma invece di un quadrato o un rettangolo cosa succede? se la metto vicino a un altro ho questi river che fanno delle cose strane ok? ce n'è uno che va giù verticale e gli altri due che fanno delle curve allora questo è una struttura che mi dà un millepiedi in questo caso ci sono tutte le zampe che sono i cerchi ok? e tutti i river che separano le varie coppie di zampe quindi qui io ho una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici punte ci sono anche le antenne prima e dopo qualsiasi cosa siano ok? però ho diciamo quattro file di zampe nel mio foglio quadrato quindi questo è un salto è un salto evolutivo del millepiedi origami perché una volta che uno ha capito questa struttura potrebbe non avere solo quattro file di cerchi potrebbe avere dieci file da dieci ok? e quindi con un foglio quadrato quindi non un rettangolo lungo che se io voglio ancora zampe devo allungare il mio rettangolo sempre da un quadrato io posso ottenere tutte le zampe che voglio ok? questo è un salto evolutivo spettacolare poi il modello il modello in sé questo è orrendo però quello che c'è dietro matematicamente è fantastico ecco uno potrebbe usare gli origami anche per spiegare da un punto di vista didattico ad esempio le proprietà delle potenze questo è un triangolo di Sierpinski potrebbe forse sì forse no non lo so ok? allora uno se si mette a contare i triangoli verdi ok? sono tre e quindi questo è un tre alla uno se uno conta quelli gialli sono tre volte per tre alla uno quindi tre alla due ok? perché ne ha tre qui tre qui tre qui se uno conta quelli azzurri sono tre alla tre e quello centrale che è uno questa è una maniera di introdurre il tre alla zero che non si è mai capito bene perché un numero elevato alla zero dia uno ok? è una spiegazione intuitiva che in qualche maniera può convincere che c'ha una sua logica questa è carina da è carina da vedere insomma ok i grandi possono divertirsi con giocando con gli assami origami ad esempio confrontandoli da un punto di vista delle mosse da fare se io devo trovare la bisettrice di un angolo ok? con riga e compasso devo fare una due tre quattro operazioni con l'origami porto un lato sull'altro lato e ce l'ho ok? la geometria dell'origami è molto più efficiente di quella riga e compasso può giocare con le equazioni di terzo grado come abbiamo intravisto prima ci sono tutta una serie di altri teoremi eccetera e costruzione di cose anche strampalate tipo coniche frattali eccetera ci sono problemi di colorazione che non indaghiamo però ci sono è possibile applicare il teorema della tre colorazione cioè usare solo tre colori per piegare uno di questi modelli qua in maniera che in ogni punta ci siano sempre tutti e tre i colori cioè un colore non tocca mai se stesso c'è la maniera di farlo che coinvolge i cicli hamiltoniani eccetera eccetera e ci sono applicazioni tecnologiche questi sono esempi di coniche ok questo è l'inviluppo della parabola l'inviluppo dell'ellisse dell'iperbole ci sono i twist i twist sono le cose più belle in origami è una mossa che coinvolge un poligono centrale che ruota quando tu lo pieghi ti permette di guadagnare carta in tutte le direzioni in maniera simmetrica ok si chiama twist perché il poligono centrale ruota quando tu fai questo movimento dopo vedremo qualcosa e il twist si è dimostrato sempre John Salas ha scovato dei twist fatti nel 1770 erano dei biglietti augurali in occasione di nascite e questo è un esempio di 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 cosa che lui ha trovato in un qualche museo un mercatino insomma questo è uno è il primo twist di cui si abbia notizia insomma e il twist viene usato per fare delle rose o delle tassellazioni qui ci sono dei twist a 12 a 4 a 6 a 3 eccetto 12 sì 12 questo è di Alessandro Weber che è uno probabilmente il miglior origamista italiano e forse qualcosa più dell'italiano però italiano di sicuro tecnologia pannelli solari allora questo è uno dei modelli che ho visto e ho detto vabbè questo lo devo piegare in realtà quello che ho visto è la simulazione era una simulazione al computer di questa struttura di pannelli solari che si aprono perché per andare nello spazio devono essere impacchettate messe in un missile che ha un raggio tipo della stiva di 5 metri e poi quando sono fuori devono potersi aprire fino a avere la dimensione tipo di un campo da calcio sono pannelli solari devono aprirsi e siccome è complicato andare nello spazio ad aggiustarle queste robe devono potersi aprire con il minimo sforzo e la minima possibilità di rottura questo è un progetto che ha coinvolto sia la NASA sia l'università con la consulenza determinante direi di Lang che è Lang insomma quando io ho visto questa simulazione ho detto vabbè devo farlo per cui me la sono guardata bene e poi mi sono reinventato il modello che è un modello loro chiaramente questa è la struttura di questa struttura di pannelli solari che è completamente aperta semi chiusa e quasi chiusa e questo sono sono io con una la mia versione origami di questo cosa notate che ci sono sul simbolo dell'ESA e altre cose il MUSE che è stato il tramite perché questo modello è stato portato sulla stazione spaziale internazionale da Paolo Nespoli che poi in un video ha mostrato ne ha illustrato le caratteristiche il video si trova in rete da qualche parte questo è lui soddisfazione è una grande soddisfazione è una grande soddisfazione qui mostra come si è aperto e poi lo fa fluttuare nello spazio sui saluti finali è stata veramente un'emozione bellissimo andrò a cercare il video sì vale la pena ecco chi dobbiamo ringraziare per questo un salto in banco allora gli ingegneri e io sono assolutamente d'accordo con loro hanno detto che loro non avrebbero mai potuto concepirlo quel modello là se non fosse per questo salto in banco che usa l'origami oltre a andare sul monociclo giocare col fuoco eccetera per stupire il suo pubblico allora lui tra le altre cose si è appassionato ai labirinti ok e ha scoperto che il labirinto è formato dal percorso che puoi considerare una piega a valle e dalla siepe che puoi considerare una piega a monte e si è accorto che tutti i labirinti storici che aveva trovato in giro li poteva piegare con questo meccanismo e collassare ok e allora da questo collassamento dei labirinti poi è passato a sviluppare delle altre cose e ha costruito quelle che lui chiama i flasher che sono delle strutture origami che sono molto piccole poi lui la espande per stupire il suo pubblico ok e questo è stato la base per costruire quel modello di prima cioè se lui non ci fosse stato non l'avrebbe pensata prima di lui c'era questa c'era la mappa di Miura che anche questa è geniale assomiglia un po' a una mappa ha delle caratteristiche che adesso non sto qui a spiegare per cui non si rompe mai a differenza delle mappe normali dove tutte le pieghe coincidono sullo stesso punto per cui tu hai che 20 strati di carta vanno a a pesare sullo stesso punto e quello più esterno prima o poi si rompe qui questo non succede perché non ci sono non c'è un punto dove cioè i punti sono tutti spostati di un po' tutte le giunzioni quindi questa la puoi aprire e richiudere mille volte tra l'altro semplicemente prendi le due estremità apri e richiudi e fa tutto da sola e non si rompe mai perché non hai questa sovrapposizione di foglie di carta questo è il crease pattern ci sono le pieghe orizzontali che sono tutte orizzontali e quelle verticali che invece fanno un zigzag è il zigzag il segreto di questa cosa questa è quella che abbiamo visto prima la struttura con righe di base triangolari questo dà luogo anche allo stent non ve l'ho mostrato prima la versione origami però questo lo stent è il rinforzo per la vena lui deve viaggiare in vena con un cavetto ok quindi deve essere piccolo quando arriva nella posizione dove deve rinforzare la vena viene aperto incredibile questa è la versione origami questo purtroppo non è esattamente un origami perché ho dovuto incollarlo ok ho dovuto incollarlo da una parte però è troppo sfido allora se tu prendi due estremità e le tiri adesso è come deve viaggiare in vena e quando lo tiro lui si allarga e diventa il rinforzo della vena incredibile quindi l'origami è utilizzato anche in medicina viene usato anche in medicina esatto viene usato anche per le lattine sempre Miura ha scoperto che questa configurazione che è la stessa del cuscino di prima ok in qualche maniera dà più resistenza al cilindro della lattina e quindi di fatto possono usare il 20% di materiale in meno per costruire la lattina che viene più leggera e tutto quanto e ha la stessa resistenza e qui ancora sono basi quadrate sono basi quadrate quella forza di cui si parlava prima insomma compare da tutte le parti perché fare origami allora ci sono mille 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 motivi che non sto qui a dirvi vi dico il principale perché è bello l'origami è la magia della trasformazione tu prendi un foglio di carta e gli dici tu cosa vuoi diventare ok vuoi diventare questo questo è il testral per chi ha visto Harry Potter sono quelli è una specie bellissimo l'ho visto ieri Harry Potter questo è il test volevo fare un un pegaso o qualcosa del genere che avesse delle ali capaci di sostenerla perché i pegasi che trovi i pegasi e i origami che trovi hanno delle alette minuscole che non tirerebbero su neanche un pollo questo è l'unico esemplare che ho piegato di questo è un modello mio ecco ecco questa è la bibliografia Peter Engel sono due versioni del libro con due titoli diversi però è sempre lui quello di Lang origami design secrets e project origami che è quello di Tom Hull mentre i primi due sono libri origami il secondo descrive anche tutta la teoria dei cerchi e dei river eccetera e quindi ha anche una parte corposa matematica il terzo è ha pochissimo di origami però usa l'origami per la didattica perfetto che tra l'altro ti volevo chiedere quindi per un insegnante farebbe bene a prendere è composto da delle schede dove descrive un problema ok quindi ha proprio la scheda del problema da dare agli alunni e poi descrive la soluzione origamistica eccetera ma tira in ballo veramente di tutto di tutto di più a tutti i livelli ecco qui avrei finito perfetto quindi già che siamo sulla scia della didattica ti volevo chiedere oltre a questi libri hai qualche consiglio su qualche convegno da seguire piuttosto che sito da tenere monitorato dipende quello che uno vuol fare allora il CDO aveva cominciato e credo stia continuando una serie di convegni su origami e didattica normalmente un convegno origami è fatto per origamisti anche se in realtà la gente che va lì fa origami a tutti i livelli ok quindi anche anche il principiante se si trova bene normalmente in un convegno origami però è tutto incentrato sul piegare in un convegno origami parli poco e pieghi tanto tutto il giorno e dove puoi anche la notte non in Giappone in Giappone sono rigidissimi non fai nulla al di fuori della classe comunque questo è solo per sentito dire non ci sono mai stato a un convegno origami in Giappone ma chi c'è stato ha detto così insomma il convegno italiano invece è il convegno dove chi vuole piega tutta la notte e molti vogliono quindi quello che succede a un convegno origami è che io che ho inventato un modello vado lì e lo propongo ci saranno 5, 10, 20 persone che vogliono imparare quel modello ci sono diverse classi in parallelo e ognuno va nella classe che lo ispira di più e uno insegna e gli altri imparano dopodiché quando non insegni impari da qualche altra parte e c'è uno scambio di informazioni e di trucchi e di cose che è inarrivabile cioè non lo puoi trovare in un libro quello quindi la partecipazione a un convegno è qualcosa che va fatta invece il CDO ha iniziato una serie di convegni dedicati a origami e didattica e quindi rivolti non a origamisti ma a normalmente insegnanti o educatori che vogliono usare l'origami per il loro lavoro ok che può avere valenze artistiche che può avere valenze matematiche geometriche o perché quando tu pieghi un modello tridimensionale impari la tridimensionalità anche un cubo imparare il cubo per i ragazzi la prima volta è difficile perché perché devono capire il 3D del cubo finché non lo costruisci non lo capisce mica per davvero certo sicuramente tra l'altro qui abbiamo un commento da Riccardo che ci dice veramente un bellissimo intervento grazie mille soprattutto quanta matematica anche negli aspetti più artistici degli origami quello che stavi dicendo anche tu effettivamente penso che facendo si impari veramente perché comunque ci devi sbattere la testa devi muovere le mani e vedere veramente come creare una forma geometrica ma non solo come ci hai fatto vedere tu anche altri esempi e già che ci stiamo avvicinando sempre di più alla fine e soprattutto abbiamo fatto questo intervento sugli origami sulla matematica ti volevo fare un po' la domanda conclusiva preparo le robe per il gran finale bravissimo preparati lì io ti immagino immerso tra un sacco di origami ce ne sono un po' che si immagino comunque ecco ti volevo fare la domanda che faccio a tutti nelle mie dirette e quindi sono curiosa della tua risposta perché non ho mai fatto questa domanda a un origamista ti voglio chiedere che cosa è per te la matematica allora la matematica per me è dappertutto è dappertutto la matematica è applicata a un sacco di cose la matematica io la vedo in un fiore che si apre e si apre con un movimento a twist ok io ce la vedo lì la matematica che poi io vado a cercare io cerco i numeri e gioco con i numeri da sempre mi appassiono alle a tutte le successioni che ci sono fibonacci piuttosto che considero il libro il mago dei numeri sì uno dei più belli che ci siano perché veramente tira fuori tutta una serie di cose che anche nel mio lavoro incontro un sacco di matematica il mio lavoro ha a che fare con la linguistica con l'acustica con la fonetica eccetera e gli ultimi approcci per modellare quelli basati su reti neuronali per intenderci che permettono di approcciare il linguaggio naturale il riconoscimento della voce di immagini eccetera con delle prestazioni mai viste prima cioè hanno veramente fatto un salto in avanti trasformano tutto in numeri addirittura se tu consideri cioè se tu applichi della statistica ai testi ok quindi alle parole riesci a trasformare ogni singola parola della lingua italiana o della lingua inglese o anche di tutte le lingue contemporaneamente in una sequenza di numeri ok e a quello che succede adesso adesso una parola diventa un vettore di numeri che ne so 300 numeri reali ok e se tu cominci a fare delle operazioni matematiche su queste riesci a ottenere delle cose veramente sorprendenti cioè tu hai che facciamo con tre numeri ok tre numeri hai che la parola cuoco è uno due tre ok e la parola casa è 14 16 18 ok quello che tu scopri è che se poi vai a vedere qual è la distanza tra due parole la distanza proprio numerica facendo la differenza del primo più la differenza del secondo col secondo più la differenza del terzo col terzo quindi operazioni matematiche su sequenze di numeri che sono stati assegnati secondo qualche procedura statistica strana a queste parole e tu fai queste cose qua scopri che le parole che in qualche maniera sono vicine tra di loro da un punto di vista sintattico o semantico o cose del genere sono anche le parole che hanno la distanza minore quindi se tu cerchi quali sono le parole più vicine alla parola gennaio troverai gli altri undici mesi troverai febbraio marzo aprile maggio giugno addirittura se tu hai la parola re e regina ok e la parola uomo e donna riesci a fare delle operazioni matematiche per cui se tu chiedi prendi la parola re gli togli uomo gli togli i valori dei numeri della parola uomo gli aggiungi quelli della parola donna trovi che la parola più vicina è regina è pazzista ma incredibile ma su questo dobbiamo farci un'altra diretta no ma non la so non sono in grado di fare una diretta su questo però veramente ci sono delle cose pazzesche e adesso le parole vengono vengono gestite così ogni parola diventa una sequenza di qualche centinaio di numeri 100 300 dipende è un parametro del sistema ok e poi su quelle tu applichi delle operazioni matematiche quindi veramente la matematica è dappertutto è pazzesca la prossima volta che i miei alunni mi chiedono cosa cosa me ne faccio della matematica cosa serve gli porto tutti gli esempi che mi sono stati fatti in tutte queste dirette che sono tantissimi sono infiniti ecco direi che siamo addirittura d'arrivo allora questo è il flex cubo un'unica striscia di carta quindi un rettangolo e permette di avere questo movimento qua bellissimo questo ok ma questo è niente questo è il flex cubo il suo papà si chiama flex cubo doppia stella questo è un modulare 64 moduli incastrati senza colla potrei parlarci un quarto d'ora su questo ma farò veloce allora anche questo puoi girare sono otto cubi incernirati però a un certo punto uno può fermarsi può aprire lo scrigno no può estrarre la prima stella ma lui si chiama flex cubo doppia stella dov'è la seconda stella? sarà dentro nei no? oppure sarà fuori no sono due mezzi flexi cubi ok ognuno è composto da otto mezzi cubetti questo è mezzo cubetto questo è l'altro mezzo se io le accorso uno all'altro ho un cubetto ok quindi questa è una divisione non banale di un cubo in due parti uguali ma ce n'è un'altra questa è una stella composta da otto mezzi cubetti se io la giro ottengo una scatola per stelle è una scatola che ha esattamente lo spazio per tenere una stella dentro ok e la stella e la scatola sono esattamente composte da otto cubetti quindi anche questo e insieme formano un cubo intero quindi anche questo è mezzo cubo bellissimo proprio effetti speciali da conclusione diretta ah sono gli ultimi vai vai la coppia del del robo che ha portato l'astronauta e qui si vede il twist quando io lo apro uno vede lo si vede da sotto il twist dell'esagono interno che continua a girare è così che si ha bellissimo e questo è la versione origami di questa struttura di pannelli solari che la NASA pare che stia costruendo e questo non avrebbe mai potuto esistere senza questo questo è uno dei modelli di Jeremy Sheffield ok prova a indovinare cos'è è un oggetto di uso comune di uso comune sì sai che non riesco ah è qualcosa che ci serve per pulire dico una stupidata è una delle domande è una delle risposte più frequenti no non è vediamo se indovini adesso no vabbè questo è il cappello il flasher hut di Jeremy Sheffer bellissimo è un quadrato di carta e con questo direi che posso salutarvi no è bellissimo bellissimo infatti anche qua abbiamo nei commenti Elena che ci dice fantastico ma mi aggiungo anch'io per dire fantastico e ti ringrazio tantissimo si vede molto la tua passione e la trasmetti benissimo veramente Elisa Elisa è una mia collega e mi ha detto che dovrei devo metterlo ecco poi prof di Matteo Line dice che vuole il cappello bene no bellissimo però immagino che il suo ha trovato le istruzioni però è tosto ma immagino immagino anche perché quando l'hai aperto si sono viste proprio tutte le pieghe lì bisogna avere una certa tecnica per farlo non credo che io riesca essendo che le poche cose che so fare sono il segnalibro no allora così non lo so fare però ti ha paure a fare tutte le pieghe ma la parte difficile è collassarlo perché tu non riesci a collassare nessuna parte finché non collassa tutto e tu all'inizio cominci a mettere questa sequenza di monte valle a posto ok e però non riesci a chiuderla del tutto devi cominciare a fare la stessa cosa qui poi qui poi qui e fare tutto il perimetro esterno e poi cercare di andare un po' verso l'interno ma lavorare all'interno è un casino perché non puoi chiudere l'esterno potrai chiuderlo solo alla fine e quindi tu devi convincere la carta con molta molta gentilezza e molta molta pazienza a un po' alla volta avvicinarsi al movimento che dovrà fare probabilmente la chiusura più no ce ne sono altre più complicate però è sempre di questa famiglia qua beh comunque bisogna essere un po' esperti per farla questa questo sì è abbastanza complesso però il risultato è bellissimo il risultato è fantastico è effettacolare veramente niente che dire grazie mille per questa diretta è stato bellissimo e tra l'altro è durata parecchio e ci hanno seguito fino alla fine in molti quindi grazie grazie mille guarda qua ti ringraziano ti fanno i complimenti grazie a tutti per la pazienza allora no ma che male pazienza è stato molto interessante non ditemi come è finita la partita ecco esatto tra l'altro ci hanno ascoltato nonostante ci fosse la semifinale quindi dai è stato molto bello grazie mille e che dire alla prossima grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e buonanotte e direi che concludiamo così con il cappello ciao a tutti grazie ciao buonanotte